camillina ma tu come la imposti la tua videocamera grandissimi carissimi stimatissimi ciao a tutti e bentornati sul canale di saturn 5 per un nuovo video dopo l'ultimo mio video sugli metodi consigliati suggeriti di ripresa soprattutto in occasione di viaggio ragazzi adesso andiamo oggi a scoprire quali sono le migliori impostazioni video di una fotocamera oppure di una videocamera io non farò due discorsi diversi distinti tra foto e video perché i mondi sono molto simili se ci sono delle differenze ve le faccio sicuramente notare andiamo a sviscerare nel dettaglio in sede di uscita di sessione di riprese potrebbe essere anche un viaggio visto che comunque la stagione è proprio quella antecedente all'estate siamo tutti che stiamo friggendo perché non vediamo l'ora di partire per il viaggio estivo ebbene quali sono le migliori appunto impostazioni di camera ragazzi allora innanzitutto per quello che riguarda le foto io vi dico anche un attimino quelle che sono le mie abitudini personali e ciò che ritengo il meglio allora per le foto io normalmente riprendo sempre con la massima risoluzione e la più bassa compressione jpeg quindi volendo si può riprendere anche in grave in questo caso avete la massima qualità i file però attenzione sono veramente molto molto pesanti non so fino a che appunto convenga riprendere in rav secondo me in rav conviene riprendere soprattutto se avete intenzione di fare una post produzione pesante ma siccome non è il mio caso io normalmente di post produzione ragazzi ne faccio veramente poca e quel poco che faccio mi basta il file jpeg quindi massima risoluzione più basso livello di compressione jpeg normalmente le macchine lo chiamano con s che sta per super fine no c'è m che una media poi c'è fine f s super fine per quello che riguarda i video ragazzi allora io registro sempre tutto in mp4 evito la vc hd riprendo tutto in mp4 normalmente a 50 fps perché a 50 non 25 sostanzialmente per due motivi ragazzi innanzitutto se voglio fare un minimo di slow motion con 50 posso fare un rallentamento 0.5 per cosa che diversamente non potrei fare e poi con i 50 fps ho anche una maggior fluidità nei movimenti di pan io ho notato che con 25 fps soprattutto con basse luci durante gli spostamenti di macchina le vedete un certo effetto scattoso che non è proprio il massimo dei massimi dicevo sempre in mp4 per quanto riguarda i profili colore effetti immagini io normalmente tendo a non usarli per la fotografia ogni tanto uso il profilo paesaggio che è presente un po su tutte le macchine che siano canon che siano sony che enfatizza leggermente i blu ai verdi però lo uso veramente ragazzi perché poi le macchine a volte tendono a saturare poi comunque se vogliamo dare un tocco di colore in più non possiamo sempre fare in post produzione quindi non c'è bisogno a tutti i costi di impostare questi profili a meno che non si desideri fare un monocromo a questo punto foto in bianco e nero magari volendo anche con un effetto seppia a quel punto può essere interessante anche se l'effetto si può comunque ottenere anche in post produzione per quello che riguarda i video ragazzi come dicevo prima mp4 in risoluzione normalmente 1080p evito il 4k per una serie di motivi che ho già spiegato in parecchi i miei precedenti video e con un bitrate che normalmente oscilla da un minimo di 10 megabit al secondo a un massimo di 20 io sono sempre intorno ai 15 16 18 insomma dipende un attimino ma normalmente mi tengo con quel bitrate lì che secondo me è il bitrate in assoluto ottimale normalmente evito nel modo più assoluto i vari profili tipo il c log di canon il vlog di panasonic le se log di sony che sostanzialmente tendono a riprodurre immagini riprese con ridottissima gamma dinamica per poi elaborare in post produzione non lo faccio perché poi l'elaborazione in post produzione abbastanza macchinosa e complessa per cui evito questo tipo di tecnica di ripresa come anche eventualmente i metodi di ripresa diciamo a larga gamma dinamica ma di questo magari ne parliamo un pochettino più tardi molto bene ragazzi incominciamo a parlare della primo del primo aspetto di impostazione di ripresa occhio alla composizione la composizione è un qualcosa di molto importante cercate di centrare bene il soggetto nel caso in cui ci sia un soggetto occhio alla regola dei terzi occhio agli orizzonti storti se usate se avete una livella bollo elettronica fatene uso diversamente usate il cavalletto che non sbagliate mai usare il cavalletto occhio a non includere degli oggetti indesiderati nella composizione occhio ai cavi dell'alta tensione che spesso volete rimagare in un angolino tac un pezzo di cavo che comunque potrebbe rovinarvi l'immagine io personalmente vi posso dire che faccio sempre molta attenzione per quello che riguarda i bordi del fotogramma soprattutto per la fotografia ragazzi perché spesso capita senza volerlo di tagliare degli oggetti a metà per esempio voi immaginate un paesaggio che parte con un prato e finisce con delle colline o delle montagne ebbene magari sul bordo inferiore del fotogramma avete una pietra che avete preso metà perché essendo sul bordo del fotogramma non ci avete fatto caso oppure magari sul bordo superiore una nuvola tagliata a metà allora la nuvola io tendo o a includerla o a ricomporre ed escluderla completamente sul lato su uno dei due lati del fotogramma potrebbe venire non lo so una foglia tagliata a metà un ramo di un albero ripreso per metà ecco queste cose qua io non ci faccio non mi piacciono assolutamente io faccio sempre molta attenzione di riprendere anche piccoli soggetti insignificanti o in tutto in toto o se no non li riprendo per niente ma le cose tagliate ragazzi una cosa che non mi piace non credo che ci sia tanto altro a dire per quello che riguarda la composizione ragazzi passiamo adesso l'argomento più complesso in assoluto e cioè l'esposizione che cos'è l'esposizione la quantità di luce che colpisce il sensore d'altronde fare fotografie o fare video ragazzi consiste principalmente in una manipolazione gestione della luce per cui l'esposizione è fondamentale può essere gestita in maniera completamente automatica modalità di ripresa P program dove la macchina decide apertura e tempi in maniera semi automatica priorità di apertura io decido il diaframma la macchina i tempi o viceversa io decido i tempi priorità di tempi la macchina l'apertura e poi il terzo elemento iso che viene normalmente gestito a parte anch'esso può essere impostato automaticamente dalla macchina oppure manualmente o anche quello in maniera semi automatica allora per quello che riguarda i tempi normalmente tranne casi rarissimi il classico esempio per esempio non lo so della cascata dove se io imposto tempi lunghi avrò l'effetto scia della cascata oppure se imposto tempi corti avrò l'effetto vedo le classiche goccioline sospese per aria ma a parte questi casi che sono casi veramente rari normalmente non imposto mai la priorità di tempi i tempi li lascio praticamente sempre decidere alla macchina per quello che riguarda l'apertura invece spesso volentieri anzi nella fotografia sempre nei video molto sovente li decido io per cui la mia modalità di ripresa ragazzi più usata è quella in modalità priorità di apertura io decido il diaframma e la macchina decide i tempi e o eventualmente gli iso il diaframma ragazzi vi do un'informazione non sto lì a dirvi che cosa vuol dire diaframma che effetti si hanno col diaframmi più chiusi più aperti non è questo una un corso di fotografia volevo soltanto concentrare la vostra attenzione camilla vieni un po di qua brava volevo concentrare la vostra attenzione sui valori di diaframma dovete sempre impostarli in funzione del tipo di sensore che avete sul corpo macchina tenete presente che una un sensore di un pollice 8,8 per 13,2 tipico delle sony rex 10 o delle sony rex 100 ha una profondità di campo a f2 8 pari a una macchina 35 millimetri a f8 questo cosa vuol dire che più grande è il sensore a parità di f di valore di diaframma è minore la pdc quindi è inutile impostare un f11 su un sensore da un pollice perché tanto rischiate solo di andare in diffrazione mentre invece su un pieno formato potete arrivare anche a f13 f16 senza problemi per quanto riguarda la profondità di campo vi dico le mie impostazioni che sono quasi sempre le stesse tenendo conto del genere di riprese che faccio io io tendo sempre a preferire a differenza di tantissimi altri delle ampie pdc in tutti i casi non soltanto per le riprese paesaggistiche ma anche per le riprese che comportano la presenza di un soggetto come posso essere io per esempio che sto vloggando in questo momento con uno sfondo in sottofondo io tante volte mi dico perché se un sottofondo è uno sfondo è bello perché volerlo sfuocare a tutti i costi tanto il soggetto risalto ugualmente perché è già centrale perché già messo in primo piano vedere uno sfondo gradevole non vedo perché bisogna per forza sfocarlo a meno che non sia un brutto sfondo ragazzi è chiaro che comunque se riprendete una persona per esempio con uno sfondo brutto allora a quel punto lì avrebbe senso aprire il diaframma manetta proprio per sfocare il più possibile mi fa ridere certi youtuber ne vedevo proprio uno qualche tempo fa che stava facendo una recensione di una nuova macchina di sony e si trovava in piazza san marco a venezia si riprendeva lui stesso no era un vlog a tutti gli effetti come questo qua mio di adesso con il diaframma aperto a manetta e diceva guardate che bello sfondo pastoso cremoso eccetera eccetera no io dicevo ma cavoli ma voglio dire lo sfondo pastoso e cremoso va bene insomma posso anche pensare che se lo sfondo è piazza san marco di venezia ragazzi non potrebbe anche non dispiacermi vedere lo sfondo anzi mi interesserebbe forse vedere più lo sfondo che non la faccia dello youtuber è chiaro che poi se si tratta di martina stella a quel punto cambia tutto uno può anche lavorare con diaframmi aperti ragazzi perché tanto per bello che sia lo sfondo fosse anche portofino monte carlo credo che martina con martina stella che vlog nessuno guarderebbe lo sfondo il caso diametralmente opposto invece riguarderebbe il caso per esempio della rosibindi se per caso la rosibindi dovesse mai fare un vlog beh a quel punto come impostiamo il diaframma ragazzi guardate io ho una soluzione impeccabile secondo me la migliore tappo sull'obiettivo dopodiché abbiamo gli iso allora se avete una fotocamera avrete a che fare con gli iso se è una videocamera avrete a che fare con i decibel che è un altro sistema di misurazione ma il concetto è sempre lo stesso regolare la sensibilità dei singoli fotodiodi allora gli iso in condizione di buona luce ragazzi possono tranquillamente essere usati anche in automatico scusate ma mi devo abbassare qua che sono in mezzo alla giungla e ci sono i rami in mezzo alla strada se invece avete situazione di luce critica soprattutto in basse luci a quel punto lì dovete conoscere molto bene la vostra macchina sapere qual è il valore massimo di iso per cui la macchina non produce più di tanto rumore o comunque vi dà una grana che rientra ancora nell'accettabile e fare i conti con questo quindi o impostate gli iso manualmente o se no c'è un sistema che io uso sempre che è un sistema semi automatico per cui voi impostate un limite superiore nel senso oltre quale la macchina non può superare la soglia di iso alcune macchine consentono anche di impostare limite inferiore limite inferiore di fatto non è che abbia molto senso perché serve veramente a poco il limite superiore invece serve come ragazzi perché voi dite la macchina scegli tu l'iso che vuoi a patto che non superi che ne so iso 1600 iso 2000 iso 3002 a questo punto però dovete voi conoscere molto bene la vostra macchina se avete una sony serie rx10 o rx100 per esempio sensore un pollice da 20 megapixel potete spingervi fino a verso iso 1600 che non avete problemi al di sopra la grana comincia a diventare un pochettino fastidiosa e soprattutto visibile se invece avete una sony per esempio alfa 7 s2 che è la miglior macchina in tal senso sul mercato oggi nonostante che sia in produzione da cinque anni potete permettermi di sparare fino a iso 50.000 perché il rumore non ne vedete assolutamente ancora voi pensate che il valore massimo iso 409.600 però parliamo di un 35 millimetri con 12,3 megapixel di risoluzione allora gli iso vanno impostati c'è poco da fare in base in base al al tipo di macchina che vi trovate dal discorso degli iso ragazzi mi rilascio adesso un attimo a dirvi una cosa importantissima riguardo proprio all'esposizione e con questo concludo il discorso sull'esposizione allora una falsa credenza che appunto molti credono e che gli esposimetri sulle macchine siano progettati per rendere la luminosità sull'immagine il più possibile simile alla luminosità reale della scena niente di più sbagliato gli esposimetri di qualunque fotocamera o videocamera di basso o alto livello di questo pianeta è progettato non per rendere il più simile il più realistico possibile la luminosità rispetto alla scena che è inquadrata ma di rendere il massimo dettaglio possibile dall'immagine attenzione perché sono due concetti molto ben distinti l'uno dall'altro allora questo cosa significa sul piano pratico che se lavoriamo e riprendiamo in condizioni di buona luce come per esempio oggi col sole e tutto quanto bella luce a quel punto rendere una scena col massimo dettaglio possibile corrisponde anche a rendere la luminosa il più simile possibile alla luminosità reale dell'ambiente in cui ci troviamo ma quando la luminosità incomincia a calare tipicamente di sera ragazzi le cose cambiano e cambiano anche di parecchio perché voi dovete sapere che quando la luce cala gli esposimetri incominciano a sovresporre e più la luce cala quindi per esempio più si avvicina la sera e la notte più le macchine tendono a sovresporre proprio perché la luce cala l'occhio umano incomincia a scorgere sempre meno dettagli su ciò che gli circonda proprio perché non ce la fa più i sensori da questo punto di vista ci vedono meglio dell'occhio umano e incominciano a sovresporre per consentire poi allo spettatore di vedere dei dettagli che diversamente a occhio nudo non si vedrebbero tenete presente ragazzi che sotto il profilo delle basse luci qualunque qualunque no ma mediamente diciamo i sensori digitali moderni ci vedono molto meglio dell'occhio umano diverso il discorso per la gamma dinamica l'occhio umano è in grado di distinguere dettaglio su alte basse luci tipicamente nei contesti diurni molto in modo molto migliore rispetto a un sensore digitale quindi dovete tenere presente di questo aspetto quando riprendete di notte più è buio l'ambiente e maggiore sarà la sovraesposizione che il vostro esposimetro vi suggerisce a questo punto sta a voi la scelta ragazzi cioè sta a voi decidere se voi volete avere una scena col massimo dettaglio possibile allora e quindi consentire allo spettatore di vedere anche quello che voi in questo momento non vedete al momento appunto della ripresa allora va benissimo e ben venga la sovraesposizione che la macchina vi dà in caso contrario ci potrebbe anche essere che se dovete per esempio raccontare una storia voi siete in un ambosco al buio di notte non ci vedete quasi un Cristo e volete che lo spettatore veda tanto quanto vuoi e cioè poco o nulla a quel punto voi dovete sottoesporre per riprodurre la stessa luminosità che avete intorno a voi se invece girate un documentario dovete documentare una scena notturna dove è importante il dettaglio e che si veda ciò che c'è ben venga la sovraesposizione attenzione a questo piccolo particolare passiamo adesso a parlare della gestione del fuoco allora gli autofocus moderni ragazzi delle nuove macchine sono sempre più performanti sempre più precisi e sempre più affidabili di conseguenza spesso e volentieri si usa l'autofocus anziché focheggiare manualmente soprattutto nei video nelle foto io personalmente vi dico la verità tendo anch'io a usare il più delle volte l'autofocus io focheggio manualmente soltanto in pochi casi e cioè quando l'autofocus non mi mette a fuoco esattamente quello che voglio io a quel punto si passa a focheggiare in manuale si possono fare delle regolazioni anche molto precise grazie alle zoomate in digitali oppure grazie anche a un effetto contorno delle zone a fuoco che si può impostare sulle macchine e quando è che si può ancora utilizzare il fuoco manuale ragazzi quando la scena inquadrata è troppo scarsa di contrasto oppure di luce voi sapete che gli autofocus per funzionare bene devono avere una scena un minimo illuminata quindi deve esserci un minimo di luce e un minimo contrastata se voi riprendete le superfici con colori morbidi omogenei gli autofocus tribulano a quel punto potrebbe essere che dobbiate focheggiare voi oppure siete in ambienti molto bui e siete sotto la soglia di luce minima per far sì che l'autofocus agganci a quel punto potete focheggiare voi in ogni caso l'effetto contorno ragazzi io lo uso lo consiglio e lo uso sempre l'effetto contorno praticamente consiste in una striatura lungo i bordi dei contorni dei soggetti messi a fuoco la potete utilizzare sia nel caso di focheggiamento manuale sia nel caso di autofocus per verificare che l'autofocus stia effettivamente funzionando a dovere no ebbene potete scegliere di solito fra tre quattro colori solito c'è il rosso il giallo il blu o il verde insomma no di solito si mette il colore che maggiormente contrasta con l'ambiente se riprendete in natura dove c'è tutto verde intorno come faccio sempre io vi consiglio il rosso infatti io uso sempre il colore rosso sulla canon qua e così avete un aiuto e soprattutto tenete l'autofocus sotto controllo che funzioni bene per quello che riguarda i video ragazzi il discorso è molto semplice allora se voi riprendete una scena fissa tipo non so voi che fate un vlog seduti su una sedia e parlate potete regolare anche il fuoco fisso su di voi dopodiché quello è quello rimane per tutta la ripresa se invece voi vloggate e riprendete il movimento come sto facendo io adesso oppure non lo so fate dei panni riprendete i paesaggi focheggiare manualmente e contemporaneamente fare i movimenti di macchina che riprendono soggetti prima più vicini poi lontani e sincronizzare manualmente il fuoco con i vari soggetti ragazzi è per un amatore pressoché impossibile quello è un lavoro da regista perché lì entriamo già nell'ambito del cinema dove comunque c'è il tecnico che si occupa soltanto dell'immagine c'è quello che si occupa del suono c'è quella e poi c'è quello che si occupa del fuoco allora a quel punto lì lui sì che focheggia tutto manualmente però fa solo quello e quindi è tutto un altro paio di maniche invece per un amatore o anche per un documentarista che deve andare a fare la ripresa e che ne so del leone in kenia voglio vedere usare il fuoco manuale mentre sta inseguendo un leone che magari sta pure correndo e muovendosi nella savana no e questo per quello che riguarda il fuoco passiamo adesso a parlare ragazzi del bilanciamento del bianco altro capitolo molto importante allora il bilanciamento del bianco è un qualcosa di importantissimo perché come voi ben sapete gli avb automatic balance vite balance system cioè sistemi di bilanciamento automatico del bianco vi consentono di eliminare delle dominanti di colore sulla scena qualora fossero presenti esattamente come fa l'occhio umano se noi ci troviamo sotto un cielo nuvoloso oppure in zone d'ombra c'è una forte dominante blu che però poi noi inseriti nel paesaggio non scorgiamo perché l'occhio si abitua i sensori invece no riprendono tutte le cose così come sono ebbene se vogliamo simulare l'effetto dell'occhio cioè eliminare questa questa dominante bisogna intervenire scaldando o raffreddando la foto insomma diciamo che la foto oppure l'immagine video insomma per cui vi dico che in linea generale i sistemi automatici di bilanciamento del bianco sia per fotocamere sia per videocamera da anni ormai hanno raggiunto un elevatissimo livello di affidabilità io sono anni e anni che lavoro con fotocamere reflex canon poi sony e non ho mai avuto problemi forse una foto su mille ho dovuto scaldarla fra virgolette oppure raffreddarla in post produzione perché mi ha inciuccato il bianco ma normalmente il tutto funziona sempre correttamente ci sono tuttavia dei casi ragazzi in cui invece conviene intervenire manualmente oppure in maniera semi automatica per esempio se voi riprendete esempio classico un tramonto voi sapete che un tramonto colorato di rosso c'è una forte dominante rossa c'è una luce ambiente rosso arancione molto forte bene se voi la riprendete in avb col bilanciamento del bianco impostato su automatico il sistema rileva la presenza di questa dominante rossa e tende ad attutirvela un po magari però la cosa non è voluta anzi più delle volte non è affatto voluta perché proprio quel bel rosso che voi volete riprendere a questo punto voi potete fare in due modi o impostate la modalità ripresa specifica per i tramonti che ormai praticamente tutte le macchine hanno a quel punto il sistema non solo non vi riduce la dominante anzi ve la enfatizza pure o se volete una regolazione ancora più precisa andate in manuale impostate voi la temperatura kelvin che più vi piace è chiaro che questa impostazione riservata ai grandi esperti vi dico che comunque anche i più grandi fotografi sono pochissimi quelli che impostano manualmente la temperatura kelvin perché si affidano tutti al sistema automatico ma un esperto in un caso come quello del tramonto sa bene che temperatura impostare va a colpo sicuro se non siete grandi esperti voi provate di solito la scala parte da 1000 1500 kelvin fino a 10 massimo 15.000 kelvin provate diverse temperature e salvate quella che preferite come accennavo all'inizio delle video ragazzi vari profili colore adesso cambiando un altro argomento difficilmente li uso non li consiglierei neanche tantissimo esiste comunque tuttavia una funzione che è veramente molto molto utile e interessante in tantissimi casi e cioè la funzione di priorità alte luci che cos'è e a che cosa serve la priorità alte luci la nikon lo chiama delete di lighting la canon priorità alte luci la sony mi pare tonalità chiara insomma allora serve per non bruciare le alte luci in caso di scene caratterizzate da forte contrasto queste scene caratterizzate da forte contrasto le trovate molto di frequente nelle giornate assolate in contesti naturali soprattutto nei boschi io vi posso dire qualcosa perché il 99 per cento delle riprese che faccio io sono in mezzo alle foreste chi mi segue da un po di tempo l'avrà sicuramente già scoperto ebbene nelle giornate di sole nelle foreste immancabilmente ci sono delle gambe dinamiche di luci estreme i raggi del sole che entrano nel bosco in parte vengono filtrati dalle foglie dai rami degli alberi creando delle zone d'ombra quindi di basse luci in parte no e là dove entrano sono zone fortemente illuminate un riflesso di un raggio di sole su una foglia lucida ragazzi vi dà un punto luce fortissimo che va a contrastare con le basse luci allora a quel punto cosa fare in fotografia si potrebbe usare l'hdr che sarebbe niente meno che ig dinami crunch cioè la fusione di tre fotogrammi una sovraesposta una media e una sottoesposta in una sola adattando la gamma dinamica della scena sulla foto si potrebbe usare anche nel video l'hdr però è un pochettino più macchinoso e non tutte le videocamere dispongono dell'hdr le priorità alte luci invece è un sistema ragazzi che consente sostanzialmente di non variare l'esposizione non scurire l'immagine perché se no basterebbe soltanto usare la compensazione di esposizione togliere un terzo di stop o due terzi di stop no serve soltanto per sottoesporre un sistema che consente di sottoesporre soltanto le alte luci sostanzialmente vi evita le bruciature qualcuno potrebbe anche dire grazie una cosa furbissima utilissima allora la uso sempre la tengo sempre impostata costantemente sulla mia macchina si si può anche fare poi in condizioni magari di luce un po particolare tipo non so ambienti interni oppure di notte la presenza del priorità alte luci potrebbe falsarvi qualche luce strana normalmente si usa di giorno si usa su scene di forte contrasto come tra l'altro questa che vedete la mie spalle questa è una funzione che uso spesso non sempre mi ricordo di attivarla adesso mi sono appena programmato sulla canon legri a un tasto personalizzato il numero 3 dove io schiaccio la richiamo immediatamente l'ho fatto giusto ieri sera e quella ve la consiglio perché una funzione senza dubbio utilissima se avete degli stabilizzatori di immagini ragazzi a meno che voi non usiate il cavalletto dove sempre comunque consigliabile disattivare ogni tipo di stabilizzatore vi consiglio di usarli a patto che siano però stabilizzatori ottici possibilmente a cinque assi gli stabilizzatori di recente concezione sono molto performanti sia in campo foto consentono di guadagnare parecchi stop di tempi sia in campo video direi fondamentali soprattutto se si vloga a meno che non abbiate focali ultra corte tipo gopro quel punto non servono però ragazzi mi raccomando fate attenzione che siano stabilizzatori ottici perché quelli digitali elettronici non fanno altro che rovinarvi il la qualità dell'immagine per quanto riguarda l'aspetto audio ragazzi allora io ritengo tranne rarissime eccezioni di telecamere professionali ritengo nella stragrande maggior parte dei casi obbligatorio sempre l'uso di un microfono esterno mi raccomando l'audio è importantissimo adesso come riferisco ovviamente ai video un video è fatto da tre segnali uno è quello di immagine visivo e due segnali audio destro e sinistro mi raccomando non dimentichiamo l'aspetto audio perché tantissimi videografi soprattutto coloro che provengono dalla fotografia e tendono un pochettino a dimenticarsi della qualità dell'audio e snobbare l'audio in generale è importante avere una buona qualità audio normalmente i microfoni incorporati delle macchine lasciano il tempo che trovano oltretutto sono anche magari sacrificati e in mezzo a spazi angusti per cui le diciamo la risposta in frequenza la qualità audio è veramente scarsa quindi importantissimo di munirsi di un microfono esterno potete munirvi di un microfono anche di marca non della vostra macchina e collegarlo sulla slitta del flash tramite l'apposita presa jack da tre e mezzo oppure meglio ancora potete utilizzare dei microfoni della marca di cui avete la macchina dedicati magari da mettere su slitte proprietarie con i contatti elettrici così non avete nemmeno la rottura di palle di dover far correre il cavo in caso di marchi esterni dovete fare attenzione al due aspetti ragazzi intanto se sono alimentati o meno io personalmente i microfoni alimentati da batteria li ho sempre odiati non li ho mai avuti primo perché sono più pesanti ingombranti e pesanti secondo perché spesso volentieri ci si dimenticano accesi consumano batteria poi dopo non sapete mai quanta ne avete capita che quando siete fuori sul campo tutto a posto tutto pronto non potete registrare perché la batteria del microfono vi si è scaricata quindi importante che siano microfoni che ciuccino corrente dalla macchina meglio se proprietari un'altra cosa su cui dovete fare molta attenzione un consiglio che vi do spassionato io non riesco a capire allora la rode i marchi più blasonati sono rode e sennheiser ebbene sono quasi tutti mono anche il video mic pro o il video micro tutti gli altri sono mono allora spiegatemi voi che senso ha avere un microfono incorporato stereo curare l'aspetto dell'immagine al meglio e poi avere l'audio che potrebbe essere stereo col micro incorporato che poi però diventa mono sia pur di alta qualità ma comunque mono capite che fa schifo ovviamente prendete una macchina che passa magari il bordo strada vedete l'immagine della macchina che passa da destra verso sinistra e l'audio mono anziché l'effetto stereo del rumore che arriva da destra e va verso sinistra insomma quindi microfono esterno si occhio fate attenzione che sia stereo meglio ancora se ha la possibilità di regolazione dell'angolo di campo per esempio il dm100 che io uso sulla canna allegria è impostabile su 120 gradi quindi una sorta di grand'angolo sono sempre gradi molto indicativi oppure 90 gradi un pochettino più ristretto verso il davanti oppure esiste anche il shotgun che sarebbe l'equivalente audio del teleobiettivo quando voi dovete riprendere e volete una forte sensibilità in una direzione specifica non so vi trovate un ambiente salizioso volete riprendere per esempio l'audio di un picchio di un uccello che cinguette in una determinata direzione puntate il microfono su shotgun a quel punto il segnale diventa mono ma a quel punto non serve più la stereofonia e quindi avete la massima performance anche in termini di angolo di campo riguardo alle protezioni dal vento il rumore del vento allora alcune macchine anzi quasi tutte consentono di filtrare fra virgoletto ridurre il rumore del vento facendo un'operazione in macchina impostando il filtro antivento il filtro antivento ragazzi e niente meno che un filtro passa alto che vi taglia le basse frequenze una sorta di equalizzazione che imposta nella macchina servono fino a un certo punto hanno degli effetti abbastanza sgradevoli ragazzi perché poi vi taglia le frequenze del vento ma anche tutte le altre basse frequenze che invece non hanno nulla a che fare col vento molti più efficaci sono invece i cappucci allora cappucci per microfono esistono di due tipi esistono quelli in gomma più maniera oppure il gatto morto sappiate una cosa ragazzi che il gatto morto è molto più efficace per il vento in caso di vento forte vi riduce molto di più i rumori del vento ma tenete presente che vi taglia gli acuti e anche di parecchio di conseguenza vi altera notevolmente la gamma di dinamica di risposta in frequenza nel campo audio mentre secondo me la soluzione ideale è la classica gomma piuma nero quello vi taglia il vento non in maniera così forte come il gatto morto però direi che le alte frequenze le lascia potremmo dire quasi del tutto invariate molto bene ragazzi infine abbiamo il discorso della post produzione allora come voi ben sapete sia la post produzione fotografica per esempio photoshop oppure quella video per esempio adobe premiere pro vi consentono di risolvere degli errori che avete fatto in fase di ripresa allora sono molto performanti si può fare veramente di tutto si può modificare l'immagine sotto tutti i punti di vista si può modificare l'audio si possono inserire effetti si può fare un sacco di roba allora qua ci sono diverse filosofie di pensiero ragazzi c'è gente che con la post produzione ci lavora un sacco conosco un importante fotografa che anche lei è iscritta al sito yuzafoto.com come me che lavora giù pesante su ogni scatto che fa di post produzione fa delle foto bellissime fantastiche di forte impatto visivo ma se si esagera con la post produzione si perde un po' di naturalezza oltretutto il lavoro comporta anche una grande grande perdita di tempo io personalmente vi dico la mia sia per foto sia per video la post produzione la uso per carità perché la uso ma ridotta al minimo più attenzione si fa in fase di ripresa sul campo più ci si concentra sul campo ragazzi e meno si ha da impazzire poi dopo scusate a casa al computer con i programmi di conseguenza preferisco sempre fare così che non caricare poi file di tonnellate di post produzione per concludere il video ragazzi vi indico evidenzio ancora tre accessori fondamentali che dovete avere assolutamente sul campo il primo è il cavalletto il treppiedi più uso ne fate meglio è capisco che non in tutte le situazioni è il massimo della comodità ragazzi però vi serve per stabilizzare le immagini vi serve per fare composizioni inquadrature precise vi consente di tenere gli isobassi insomma il cavallo soprattutto per la fotografia insomma vi consente veramente di fare tante cose che senza non riuscite a fare un cavalletto leggero da viaggio se fate grosse trasferte a piedi come faccio io dovete sempre averlo dietro o quasi sempre il più possibile io uso il befre di manfrotto ne ho parlato anche nel mio precedente video dove faccio vedere tutta l'attrezzatura che uso un cavalletto da un chilo e 38 con testa video tutto in carbonio praticissimo leggero trasportabilissimo eccetera eccetera la seconda cosa ragazzi microfono esterno l'ho appena detto per le ragioni che vi ho appena spiegato ultima cosa importantissima per quello che riguarda le riprese sia che voi facciate foto in giro sia che voi facciate video allora se fate foto dovete per forza avere un flash ricordatevi che il flash dovete sempre averlo dietro con un numero guida che sia almeno almeno un 35 40 mi raccomando vi serve non soltanto di notte per illuminare scene buie ma vi serve anche per schiarire le ombre nei controluce di conseguenza il classico ambiente di cui vi parlavo prima per esempio i boschi in piena giornata di sole uno dice ma cosa mi porto il flash a fare ebbene se fate un controluce gli alberi per evitare in controluce appunto per evitare che vi diventino delle macchie nere un colpo di luce sopra di flash è quello che vi salva la foto per quello che riguarda il video ragazzi assolutamente un faretto led voi non potete pensare di uscire a fare una sessione di riprese senza una luce da usare qualora fosse necessario di nuovo per il discorso delle foto per schiarire le ombre nei controluce importantissimo e ancora più importanti in condizioni di basse luci e mi riallaccio al discorso che vi dicevo prima quando la luce cala voi sapete che gli esposimetri tendono a sovraesporre di conseguenza se voi avete una sony alfa 7s2 che vi consente di riprendere sostanzialmente al buio completo illuminando una scena quasi come fosse luce di giorno alzando gli iso senza avere rumore è un discorso ma mediamente in tutte le altre situazioni più estreme oppure se avete macchine che non sono proprio la sony alfa 7s2 gli iso li potete alzare però fino a un certo livello oltre al quale la grana diventa poi una cosa impossibile allora a quel punto lì ci vuole per forza una luce ausiliaria un faretto led di luce continua io ne ho uno della brilliant tra l'altro molto consigliato ottimo rapporto qualità prezzo li fa anche la manfrotto ma costano una fucilata il mio a 64 led bello potente potenza regolabile occhio solo quando regolate la potenza che non vi vada fuori fase con la frequenza del sensore importante sarebbe anche che avesse un minimo di bilanciamento del bianco già il mio faretto per esempio ha delle luci molto bianche fredde delle altre luci gialle e si può compensare regolare proprio la temperatura di colore che io normalmente tengo sui 5500 kelvin che è il bianco neutro ricordatevi infine che per illuminare una scena buia o completamente buia anche l'alfa 7s2 di sony non è che riesca a fare miracoli quando è veramente buio ragazzi o avete una luce o avete gli infrarossi altra soluzione ma gli infrarossi hanno un sacco di limiti perché vi annullano il colore vi riducono una vi restituiscono un'immagine in bianco e nero oppure con un addominante verde che poi voi eventualmente potete eliminare in post produzione ma poi avete problemi con il funzionamento dell'autofocus quindi è sempre consigliabile avere un faretto led ultima cosa che vi dico ragazzi mi raccomando non fate come i super mega principianti che girano quando il sole incomincia a calare e la luce incomincia a scendere incominciano a mettere via le fotocamere e non ci pensano più fino al giorno dopo ragazzi quando la luce cala io lo dico sempre le immagini diventano ancora più suggestive ci sono un sacco di immagini notturne se uno sa riprendere bene in basse luci gestendo bene le tonalità di luce il rumore l'illuminazione i controluce eccetera fate dell'immagine sia da un punto di vista foto sia video che sono molto molto interessanti suggestive bene ragazzi anche questo video volge al termine mi auguro davvero che possa essere stato di aiuto per qualcuno di voi che magari è alle prime armi soprattutto in vista del viaggio che faremo tutti quest'estate luglio agosto del 2020 ho già fatto altri video che trattano appunto l'argomento viaggi estivi 2020 mi raccomando nel caso in cui voi aveste una macchina che avete preso da poco non fate l'errore di comprare la macchina all'ultima e poi partire inaugurarla sul campo in occasione di viaggio comunque escursione uscite dovete prima fare una serie di test importantissimi soprattutto come si comporta la macchina come gestisce gli iso fino a che punto potete spingervi con gli iso e fino a che punto no in base a quello decidete poi le impostazioni e se utilizzare o meno luci ausiliarie quindi mi raccomando ragazzi come al solito mettete un bel pollicione verso l'alto se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'aveste ancora fatto lasciatemi qualche commento ragazzi alla prossima ciao